Questo è un modo per, diciamo così, dissuadere sempre di più all'abbandono e quindi pubblicare le foto in modo che la gente si vergogni per essere messa un po' alla gogna per quello che ha fatto. Lo possiamo fare e lo faremo sicuramente. Saranno pubblicate le immagini dei trasgressori immortalati dalle fototrappole, prosegue l'azione dell'amministrazione comunale di Arezzo per contrastare il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti. I controlli infatti da alcune settimane sono stati rafforzati con l'introduzione della videosorveglianza. In alcuni siti della nostra città, ovviamente riservati, sono messi in maniera non riconoscibile delle telecamere che riprendono con continuità quello che avviene all'intorno dei cassonetti o nei luoghi dove è noto che vengono abbandonati i sacchetti e quindi per prendere sul fatto chi fa questo abuso. Dallo scorso ottobre infine sono entrati in azione anche due squadre di ispettori ambientali. Hanno lo scopo proprio di andare a verificare i malservizi da una parte del gestore ma nel caso che mi state chiedendo proprio il cattivo uso del sacchetto e della spazzatura che spesso fanno i cittadini, talvolta gli imprenditori, talvolta i pubblici esercizi. Quindi siccome ci sono degli orari e delle modalità da rispettare occorre che vengano rispettate, se no il centro storico di Arezzo diventa veramente una grande pattugnera a cielo aperto. Bilancio positivo perché noi abbiamo elevato quasi una cinquantina di contravvenzioni e su questo ha influito moltissimo il lavoro degli ispettori ambientali ma anche della Polizia Municipale che attraverso un servizio, chiamiamolo pure di Intelligence, è riuscita vedendo che cosa c'era dentro il sacchetto abbandonato a risalire all'origine e quindi poi non avendo avuto una ripresa diretta di chi ha fatto l'abbandono si è riuscita a risalire alla paternità dell'abbandono stesso e quindi a intervenire attraverso un sistema di multe.